Sono Letizia Lodi, storica dell'arte ora a Brera, ma con una parte di animo in Liguria e ringrazio Mariangela Bruno e gli altri organizzatori di queste importanti mostre che sono in questi giorni alla Biblioteca Universitaria di Genova per avermi invitato a registrare un audio, un video in relazione alla giornata della memoria e ai ricordi personali. Sono vari che mi avevano molto colpito da bambina e forse avrà avuto otto anni, otto, nove anni, quando proprio Giorgio Bassani che era carissimo amico di papà, che era un ingegnere ferrarese, cresciuto come lui nei tempi durissimi della persecuzione ebraica e quindi del fascismo, papà era un antifascista dichiarato e per pochi minuti era riuscito a fuggire proprio con Bassani che era testimone di nozze del matrimonio dei miei genitori, era riuscito a fuggire perché sulla sua casa di campagna che era ottocentesca a Bondeno, vicino a Ferrara, era scritto, d'improvviso aveva visto una scritta, morte lodi e poi si sapeva che in qualche maniera lui stesso pur non ebreo ma molto vicino alla comunità ebraica dei Finzi Contini, di Minerbi, dei Barbicinti e dei Ferraresi della comunità ebraica ferrarese che descrive in maniera straordinaria Bassani sia nel giardino dei Finzi Contini del 62 sia nel romanzo di Ferrara pur non essendo ebreo lui stesso era molto vicino alla comunità ebraica per la quale si era adoperato in tantissime occasioni e anche e soprattutto direttamente per Giorgio Bassani. Quindi ecco che Bassani viene in Liguria, in Liguria in cui si era trapiantato papà dal 55 quindi prima che nascessi io, era venuto in visita, era rimasto sempre molto legato a papà e infatti sono alcune lettere che poi saranno esposte alla biblioteca universitaria da novembre che testimoniano questo loro rapporto molto stretto degli anni ferraresi ma anche poi dopo dei loro incontri e li avevo sentiti parlare fitto fitto e quindi sapete la curiosità dei bambini e mi aveva colpito che Giorgio Bassani così colto così di cui mi parlava tantissimo papà avesse una leggera balbuzie e quindi ero incuriosita da questo dolore che intuivo sottendesse, questa leggera difficoltà nel parlare e quindi mi ero avvicinata per ascoltare quello che si dicevano e Bassani ricordava ancora quindi dopo tanti anni, lì saremmo stati nel 65-66, tutto il dolore, il dolore chiaramente è una ferita che sappiamo bene ineludibile, incancellabile per chiunque, tutto il dolore è provato quando suo padre, il padre di Bassani e lo racconta nei finzi contini, una sera aveva raccontato di aver ricevuto una lettera da barbicinti avvisando che tutti loro, gli ebrei, erano esclusi dal circolo del tennis, da tutto, da tutte le attività ludiche ma soprattutto anche quelle di entrare nelle biblioteche. La straordinaria biblioteca ariostea che nell'immaginario di Bassani giovane, liceale e poi dopo nella vita era una biblioteca, la biblioteca della sua formazione, una biblioteca quindi immensa nella sua percezione ma anche poi in parte nella realtà di cinquecentine, di fondi del seicento e era un angolo in cui lui andava, andava da liceale e poi andava da giovane universitario e scritto a Bologna e in quel momento invece racconta lui stesso nei finzi contini che lascia Ferrara ed è sempre più a Bologna. Ma insomma lui raccontava quel giorno ancora del dolore provato sia di questa esclusione da tutto, dal tennis che lui amava tantissimo come ben noto e come appare nelle straordinarie vivissime pagine che raccontano di questo e sia non soltanto per l'esclusione dal tennis ma appunto da una biblioteca e Bambina mi aveva colpito tantissimo quanto proprio uno scrittore, una persona che allora si diceva intellettuale, di cultura, non potesse entrare in un luogo della sua identità, del suo lavoro e ricordo che ancora subito dopo quando avevano finito di parlare chiesi a papà come mai potesse essere capitato questo, quanto fossero atroci questo è quello che era avvenuto contro la comunità e papà e anche Bassani diventando rosso era arrivato nel cercare di spiegarmelo con parole meno dure per raccontare questo a un bambino. Avevo colto che quella leggera balbuzie che lo accompagnò a lungo, accompagnò Bassani a lungo nelle presentazioni pubbliche anche quando fu direttore e presidente della prestigiosa istituzione d'Italia Nostra, derivava secondo papà e secondo gli amici più stretti proprio da quell'esclusione, esclusione terribile e lo possiamo immaginare e anche di quanto dolore provò per la morte, la morte del suo amore, di Nicole, di uno dei suoi amori e di tantissimi amici, di Alberto, del professore Armanno, della mamma, Olga e non solo, dei tantissimi ebrei deportati e lo racconta benissimo, non vi leggerò quello, nel Giardino dei Finzi Contini che è esposto, so, questi giorni alla mostra e anche nel romanzo di Ferrara, ma ritorna sempre questo dolore, questa malinconia, questo rimpianto delle cose non avvenute, questo taglio della, come dire, della vitalità e della vita stessa che segnò tutta questa atroce vicenda. Vi volevo leggere, anche se è in Veneto, una poesia che ricordo Bassani amava moltissimo e aveva regalato questo libro, sempre allora, credo, in quegli anni 66-67 a papà, ed è di un grandissimo poeta, Giacomo Noventa, Versi e poesie, di cui esiste una prima edizione del 56, questa è del 60, con una notevole presentazione di Noventa stesso, ed è un libro che ho sempre tenuto con me, davvero, anche nei miei spostamenti, quanto la biblioteca di papà è ancora da me a Genova, io ora lavoro a Milano, ho sempre portato con me altri libri, chiaramente, di Calvino, anche di Bassani, ma questo, delle poesie di Noventa, mi ha sempre commosso e colpito perché subito dopo, quasi per darmi una luce, subito dopo quel giorno in cui ha preso in maniera un pochino più profonda del dolore causato dalla persecuzione ebrea, papà aveva provato a leggermela in Veneto, provo a leggervela anch'io così, anche se non sono brava nel dialetto veneto, ma tradurla mi sembrerebbe un peccato, e si intitola che nei tuoi grandi ossi d'ebrea, e nei tuoi grandi occhi di ebrea, che nei tuoi grandi ossi d'ebrea come una luce che me consuma, non ti si bea, ma nei tuoi ossi mi me vergogno da vervardà. Par ogni vizio mio ti medoni tutta la grazia del tuo buon cuore, alle mie voge ti ti rispondi come le voge mie fosse amor. Vero sei forse che in tutti i santi gheunfia dell'anema del servidor, ma forse proprio per questo i santi no se perdona nel mondo amor. Secondo il fumo che va col vento scomincia i vizi a profetar, o scarso o grande, ne si è raccolto sperar se tutto e lavorar, ma nei tuoi grandi ossi d'ebrea che sei una luce che non perdona, ti sei una santa, sì, e nei tuoi ossi non vuoi più credere che guarda. Quindi nei tuoi grandi occhi di ebrea c'è una luce che non perdona. Tu sarai una santa, forse, e nei tuoi occhi non voglio più credere di avere guardato. Per me era di un'intensità fortissima, anche come mi era presentata, mi fu presentata da bambina, forse ricordando anche papà che si commuoveva per un suo amore forse giovanile, di una donna ebrea di cui mi raccontavano. E anche perché lo stesso Bassani amava moltissimo Noventa e questa poesia. Ecco, questo è un mio ricordo. Grazie. Grazie.